Il 29enne avrebbe molestato una quindicenne davanti ad un liceo di Bari palpandole cercando di baciarla. Un 29enne originario del Bangladesh, venditore ambulante senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza a Bari sabato mattina dei carabinieri. L'uomo sarebbe responsabile di almeno altri due episodi avvenuti all'inizio di febbraio ai danni di altrettante studentesse baresi. In uno di questi episodi, che era già stato denunciato dalla presunta vittima, il 29enne avrebbe fermato una quindicenne intorno alle 8 del mattino lo scorso 6 febbraio, mentre la ragazza andava a scuola al liceo Scacchi di Bari vicino alla stazione. Con il pretesto di farle alcune domande, l'avrebbe avvicinata e bloccata contro un portone per poi baciarla con la forza. Lei sarebbe riuscita a svincolarsi, fuggendo via sabato scorso. Poi lo stesso uomo di fronte al liceo avrebbe invece fermato un'altra studentessa. Palpeggiandola con insistenza, la ragazza ha urlato e un carabiniere è riuscito ad arrestare il 29enne dopo un inseguimento. Grazie a tutti.